Dottore Ronsini, l'ASL Salerno sta lavorando soprattutto in ultimo periodo per cercare di riorganizzare quelli che sono i cosiddetti punti nascita. Sì, purtroppo c'è una direttiva ministeriale che poneva il minimo nati per un punto nascita a 500 e abbiamo nell'ambito dell'ASL Salerno tre punti nascita che sono quelli di Vallo della Lucania, di Sapri e di Polla che sono al di sotto di questo numero. Addirittura questo numero dovrebbe essere portato a mille con il dicembre 2020. Quindi noi abbiamo necessità di una riorganizzazione dei punti nascita considerando che la distribuzione della popolazione nella nostra ASL vede chiaramente una popolazione non molto intensa, per dire due terzi della popolazione sta nel terzo nord del territorio e un terzo della popolazione sta nei due terzi sud. Stiamo lavorando a questo come cercare di dare assistenza alle madri, alle persone che debbono partorire nella zona soprattutto sud che sarebbero questi tre punti nascita. Come è possibile creare un'uniformità di trattamenti per le donne? Dottoressa, secondo noi stiamo lavorando ad un'idea soprattutto di fare delle equipi itineranti. Mi spiego meglio. Cioè vorremmo far lo stesso personale deve assicurare la propria presenza nei vari punti nascita. Nello stesso tempo potenziare quella lì che è l'offerta di tipo ambulatoriale per l'assistenza della gravida fino magari al momento del parto, poi al momento del parto andrà a partorire laddove il punto nascita diciamo resta, sarà più numeroso, ma in effetti trova esattamente le stesse persone che ha conosciuto durante la gravidanza, con una migliore integrazione territorio-ospedale. E questo potrebbe essere uno dei meccanismi. Certo, c'è da lavorare molto. Il direttore generale dell'ASA Salerno Ierolino sta pensando di realizzare un vero e proprio centro di simulazione? Sì, proprio perché le dicevo nascere in sicurezza significa mantenersi allenati e dato che i numeri non sono tantissimi, per forza di cose, il direttore sta spingendo per la nascita di un centro di simulazione per il momento che è un momento molto impegnativo, che è quello lì del parto. Il centro dovrebbe sorgere ad Agropoli, che è anche l'amenità del luogo, oppure per essere utilizzato da professionisti che vengono anche da fuori, da altre ASL, per usufruire di questo centro di simulazione.